Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano codei a tratti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Varico Baccheraia. Verso Roma rallentamenti tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci. Ina 11 in direzione Firenze codei a tratti tra Prato-Est e l'allacciamento con la 1. Spostandoci sul raccordo Siena-Firenze per lavori, codei tra Firenze in Pruneta e San Casciano in Val di Pesa in entrambe le direzioni e rallentamenti tra Siena-Acqua Calda e Siena-Nord in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!